Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, per decidere il nome del nuovo Governatore di Banca d'Italia, la scelta finale sarebbe dovuta arrivare quest'oggi, così aveva detto Silvio Berlusconi, che nel corso della mattinata avrebbe fatto il suo nome. Il Presidente del Consiglio, questo vuole, diciamo così la storia, avrebbe dovuto inviare una lettera al Consiglio Superiore di Via Nazionale per il parere sul nome scelto, anche se di certezze, almeno per il momento, non ce ne sono. La domanda che quest'oggi ci porremo è che chi succederà a Mario Draghi, che dal primo novembre sarà il nuovo Presidente della Banca Centrale Europea, vedremo anche le immagini di ieri, il passaggio di consegne tra Trichet e Mario Draghi avvenuto a Francoforte. I nomi ancora in lizza sono quelli di Fabrizio Saccomanni e Vittorio Grilli, ma anche di Lorenzo Binismaghi e Ignazio Visco, anche se spunta l'ipotesi di Anna Maria Tarantola, che sarebbe il Vice Direttore Generale di Palazzo Cocca. Quindi una partita tutt'altro che risolta, partita che commenteremo assieme ai nostri ospiti e vi presento, iniziale dal Senatore Malanna, buonasera e benvenuto, e poi un collega dell'Unità che è Massimo D'Antoni, buonasera, grazie. Grazie, l'Onorevole Baretta del Partito Democratico, eccolo qui con noi e completiamo la nostra panoramica con il Professor Galloni che torna questo pomeriggio a Faccivisita. Buonasera e grazie per essere con noi. Senatore Malanna, allora vorrei partire da lei, notizie se ne hanno rispetto a quello che sarà il successore a Mario Draghi? Ho le stesse notizie che avete voi e cioè nessuna notizia per ora, io credo che la decisione arriverà presto, immagino a questo punto in ciò che rimane della giornata di oggi, io spero che sia, anzi sicuramente tutti i nomi che sono stati fatti sono altamente qualificati, spero che chiunque sia nominato sia capace tra le altre cose magari di far dimagrire un po' questo organismo che ha perso almeno la metà del suo compito, che era quello di difendere, di gestire la lira in quanto moneta autonoma e indipendente, da quando c'è l'Euro questa parte non c'è più, diciamo che ci si potrebbe aspettare una riduzione dell'apparato proporzionale a questa riduzione delle competenze e ricordo che i problemi che possono avere i nostri buoni del tesoro, i nostri titoli di Stato non c'entrano con questo perché appunto fosse ai tempi, se fosse prima del 2001 sarebbe fondamentale nel confronto internazionale il governatore della Banca d'Italia, oggi c'è l'Euro e questa funzione non ce l'ha più, naturalmente restano tutte le altre che però non sono di così diretto impatto sui mercati. Senta, come mai questa indecisione da parte del Presidente del Consiglio, come mai ancora non ha scelto un nome da proporre? Beh, Berlusconi si sa umanamente ha questa difficoltà a dire di no, dire un sì vuol dire equivale a dire dei no, ricordo di averlo spesso sentito citare il detto di Napoleone che diceva con le nomine, crei un ingrato e cento nemici, l'ingrato è quello che nomini, i nemici sono quelli che non nomini, non credo che finirà così però insomma diciamo che per dare un'idea di come a lui pesano questi momenti perché certamente a stima in tutti questi nomi che sono stati fatti bisogna scegliere uno, conto che farà la scelta migliore. Perfetto, va bene, allora staremo a vedere se appunto in serata al Photo Finish arriverà anche questo nome. D'Antoni, ci aiuti un po' a ripercorrere questa vicenda complessa, perché appunto i nomi sono diversi, perché Binismaghi avrebbe in questo momento più chance rispetto a Staccomani Grilli. Se abbia o no più chance, i giornali di oggi sembrano dire questo ma puoi anche smentirlo, diciamo è veramente difficile fare una previsione. La questione di Binismaghi è che Binismaghi è già membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea e quindi ciò che si sa è che esiste un problema che è chiamato in causa anche la Francia e cioè il fatto che la nomina di Draghi al Presidente della BCE farebbe di questo comitato esecutivo che insieme con i governatori di tutte le banche centrali del laurea euro, è il comitato direttivo della banca centrale, però il comitato esecutivo sono i sei che istruiscono tutto, quindi che di fatto governano l'istituto centrale europeo, ecco con il Draghi che subentra Trichet, in questo comitato di sei persone ci sarebbero due italiani, uno Draghi e l'altro Binismaghi e non ci sarebbe nessun francese. Questo ovviamente ha creato un problema perché la Francia ha chiesto che ci fosse un abbandono da parte del secondo italiano per lasciare posto ad un francese e quindi questo ha creato l'aspettativa da un lato e la pressione dall'altra a che si trovasse un posto di rango adeguato per Binismaghi. Questo significa che, se arrivate anche a fare qualche pressione da parte della Francia che è un pochino inusuale, questo fa sì che Berlusconi abbia un problema nel momento in cui nomina una persona diverta da Binismaghi con Sarkozy che ha minacciato di sollevare il problema tra i capi di Stato europei. Su questo poi si inserisce la discussione invece alternativa che ci trasciniamo già da un po' di tempo nella scelta tra una persona interna alla struttura o invece una persona esterna che sono gli altri due candidati forti, cioè Fabrizio Saccomanni e Vittorio Grilli. Diciamo la situazione vede queste tre persone, tutte autorevoli, tutte con curriculum di prestigio, in cui però Berlusconi si è messo in una situazione per cui qualunque cosa faccia scontenta qualcuno. Qualcuno è inevitabile, perfetto. Allora è molto chiaro D'Antoni, onorevole Baretta, abbiamo sentito anche dalla voce del senatore Malam Berlusconi, insomma una persona buona di cuore, ha difficoltà a dire di no in generale a chi ha davanti e questo inevitabilmente poi si è ripercosso anche su questa vicenda di Banca Italia. Mi dà anche una sua lettura di tutta questa vicenda che col passare dei giorni e dei mesi si è complicata, insomma oggi sono passate diverse ore, all'ora di pranzo avremmo dovuto conoscere il nome del successore Mario Draghi, ancora non ne sappiamo nulla. Intanto aumentando il numero dei contendenti il problema per Berlusconi aumenta, nel senso che farà ancora più fatica a dire quel sì e a dire quei no. Io penso, non ne faccio una questione di nomi anch'io perché mi pare che sono tutte persone di alto livello, i meriti di Grilli vanno oltre il fatto che è milanese, non gli è stato fatto un buon servizio mettendogli quell'etichetta, quelli di Binismaghi ha dato un'esperienza internazionale riconosciuta e gli altri candidati hanno una forte autorevolezza interna. Io penso che il criterio quindi doveva essere, bisognava individuare il criterio e forse il problema che ha Berlusconi è che è diventata più una discussione politica interna alla maggioranza che non una discussione sul criterio perché il vero problema è cosa deve fare il governatore della Banca d'Italia, in parte lo ha detto il collega Malan rispetto al ridimensionamento, ma anche deve garantire una coerenza con il dibattito europeo, più facile e più difficile per il fatto che c'è Draghi, più facile da un certo punto di vista perché l'interlocuzione è più diretta, ma più difficile perché Draghi dovrà dare dimostrazione di equilibrio. Dovrà sicuramente il prossimo governatore occuparsi molto di più di una necessaria riforma del credito nel nostro Paese e quindi essere da stimolo e anche quel contributo che in generale la Banca d'Italia dà alle vicende economiche del nostro Paese. Quindi credo che questa discussione sia mancata francamente, che potrebbe essere il vero modo per il quale si sceglie. I ritardi sono la conseguenza di queste discussioni tutte di carattere più di schieramento politico. Poi quanto c'è di problema politico interno, quanto c'è anche di lettura giornalistica che arrotonda, i padrini, i tremonti, questo è tutto da vedere, però francamente è un po' distorta la discussione e non è un bel vedere il fatto che a poche ore, a pochi giorni dal finale, anziché ridurre la rosa, questa si allarga, è un segno di debolezza che in questa situazione nazionale che abbiamo non ci voleva e non ci vorrebbe. Perfetto, allora professor Galoni, completiamo con lei questo primo giro, mi dà anche una sua lettura di questa partita che riguarda il futuro governatore di Banca d'Italia o il governatore uscente Mario Draghi? Io condivido sostanzialmente quello che è stato detto, però aggiungerei una considerazione di quadro che rende questa nomina più importante di quello che può apparire all'inizio anche in base a un ragionamento di competenze residue dell'istituto e cioè che questa vicenda, diciamo così come ricordavi, è cominciata qualche mese fa, ma da un mese e mezzo sta cominciando a cambiare il mondo. È venuto fuori un rapporto dei controllori della Fed in base al quale negli ultimi tre anni circa la Fed stessa ha autorizzato spostamenti di mezzi monetari prevalentemente a favore delle banche europee per 16 mila miliardi di dollari, che vuol dire 16 trilioni, che vuol dire di più del PIL americano, che vuol dire di più del debito pubblico americano. Lo si capisce perché qualche mese fa Obama andava in tv a dire che c'era il default e ci faceva ridere a noi economisti che un Presidente degli Stati Uniti d'America parlasse del default degli Stati Uniti d'America, però di fronte a queste cifre comincia la questione a far tremare le vene ai polsi. Secondo, una data storica che poi ce ne accorgeremo fra un po' di tempo, il 15 settembre, la Fed dichiara che sosterrà le banche che hanno creato un milione di miliardi di derivati, cioè mille e trilioni di derivati, illimitatamente, e pretende che la BCE si impegni a fare altrettanto. Subito dopo Trichet comincia a lanciare, a cominciare a passare le consegne, dei messaggi molto ambigui, comincia a dire qualcosa si dovrà cambiare, si dovranno cambiare i parametri, si dovrà cambiare qualche cosa. E infine piomba al vertice europeo in Polonia il numero 2 della Fed che poi viene messo alla porta, ma in pratica c'è una pressione degli americani fortissima affinché la BCE si muova nell'ordine delle decine di miliardi di dollari di euro a sostegno delle banche, senza, e questo è il primo punto che rende importante la questione del nostro governatore e della dinamica con la Banca Centrale Europea, senza chiedere alle banche stesse nessuna contropartita, perché per esempio dire vi aiutiamo, però intanto rintroduciamo una glassa Stigal, cioè netta separazione fra i soggetti che fanno credito all'economia e quelli che si occupano di speculazione finanziaria, senza neanche questa contropartita, è chiaro che non è rilevante se il nuovo governatore, questo è il punto, sarà, visto che poi ci saranno di mezzo le privatizzazioni, come saranno fatte, eccetera, se il nuovo governatore sarà più nei limiti delle cose, un uomo dello Stato, come potrebbe essere Vittorio Grilli, oppure più un uomo di apparato, un uomo cioè per sua natura più succube alle logiche privatistiche delle banche che controllano la Banca d'Italia, perché il paradosso è che una volta la Banca d'Italia era un istituto pubblico che doveva controllare delle banche, anche se pubbliche, poi in via di privatizzazione. Adesso la Banca d'Italia è un istituto al 95% privato che è controllato dalle banche private che compongono il sistema, ecco questo è il punto, quindi scegliere un uomo dello Stato più di Stato oppure di apparato non era una cosa che doveva lasciare un po' agnostica la sinistra secondo me, questa è una cosa che mi ha molto preoccupato, cioè che sulla questione almeno ufficialmente non si sia neanche, come dire, tentato di dire non è che vogliamo questo o quell'altro perché non ci compete, però è meglio vista la situazione che sia un uomo dello Stato più Facciamo una risposta in diretta, approfittando della presenza di Barretto, una risposta veloce Barretto e Barretto perché poi devo sentire Malan prima di lasciarlo di nuovo i lavori di Palazzo Madama. No, noi non abbiamo adottato questo ragionamento, anche perché la vicenda come ha detto lei è qualche mese davanti e devo dire che se avessimo dovuto scegliere e questo mi aiuta a riflettere la sua, voglio dirlo in diretta, forse noi avremmo privilegiato la logica della continuità interna, quindi in qualche modo con il limite che lei ha sottolineato ma anche con la garanzia del fatto che avevamo una non ingerenza della politica nella gestione della banca, quindi pro e contro, ma se avessimo dovuto scegliere avremmo preferito. Visto i cambiamenti strutturali di questo istituto, favorire, diciamo così, tra virgolette, senza voler dire, demonizzare i privati, perché non è come una volta che c'era il problema della separazione tra Banca d'Italia, Ministero del Tesoro, dalla politica, eccetera, che era un altro film. Adesso c'è una situazione che si è completamente capovolta, adesso sono le banche che controllano la Banca d'Italia e sono private. Allora uno che rappresenta lo Stato è un segnale di discontinuità che rispetto alle vicende finanziarie tremende che si stanno determinando e alla tematica delle privatizzazioni forse poteva scuotere la sinistra, smuoverla a un... Sì, sì, ma questo conferma l'approccio di fondo che vale per la sinistra e può valere per il centrodestra che bisognava discutere di criteri e non di nomi e quindi è un limite complessivamente se vogliamo. Perfetto, allora mi fate sentire, ma Lanna, su quest'ultimo punto sollevato dal professor Galloni. Mi dà anche una sua lettura prima dell'ultima domanda. No, sono punti estremamente appropriato quello che ha detto. È chiaro che chiunque sarà nominato dovrà essere cosciente che deve difendere gli interessi dell'Italia e dunque dei cittadini e non necessariamente delle banche, che certo non è interesse dei cittadini che le banche falliscano, ma non è pure interesse che continuino a fare esattamente quello che vogliono. E di passaggio dico forse sarebbe bene che le banche non dissuadessero così tanto i cittadini ad investire nei titoli di Stato italiani, come fanno. Lo Stato pagherebbe meno interessi e io credo i cittadini sarebbero meglio serviti, perché oggi comprare titoli di Stato a 5-10 anni si comprano titoli che rendono il 6% che sono sicurissimi. Provate andare in banche e vedete cosa vi consigliano. Vi consigliano quasi qualunque altra cosa, in particolare prodotti in-house che magari rendono oltre al 4% e che non possono che essere meno sicuri dei titoli di Stato, perché se dovesse mai andare in difolto alla Repubblica italiana vorrei vedere le banche. Certo, perfetto. Senta Malanna, tanto per riprendere le parole prima dell'onorevole Barretta, mi ha colpito come tutta questa discussione, che in qualche modo è una discussione anche che esce dai nostri confini, almeno dovrebbe uscire dai nostri confini, invece questa maggioranza è riuscita a riportare dentro i problemi che poi sono problemi di questi giorni, di questi mesi, quindi con la Lega da una parte, il PDL dall'altra, questo tirare a corda continuamente, questo me lo dà me in cambio di quest'altro che magari ti voti in Parlamento. Quanto c'è anche della partita Banca Italia dentro i rapporti attuali in Parlamento tra Silvio Berlusconi per esempio e Umberto Bossi o tra Silvio Berlusconi e Tremonti? Io credo che tutti coloro che ritengono di avere una posizione su questo è ovvio che cialcuno cercherà di sostenere il proprio candidato e se il suo candidato non è quello prescelto probabilmente avanzerà qualche richiesta, ma sono cose non particolarmente esaltanti ma sono cose normali nelle dinamiche politiche. Poi io spero appunto, siccome alla fine la nomina è in capo una persona sola. Mi dice lei per chi fa il tifo? No, per carità non vorrei inimicarmi gli altri se poi uno degli altri viene. Ah vabbè, perfetto, benissimo. Perché avessi un sentimento così forte lo direi, ma francamente non è che mi cambiano la vita nessuno. Va benissimo, allora intanto grazie per la presentazione, la lasciamo al lavoro a Palazzo Madama e per dare modo appunto al senatore Malandi di abbandonare il nostro studio noi vediamo quello che la stampa ha raccontato di questa partita Banca Italia, è uno degli ultimi servizi andati in onda proprio in queste ore, vediamo il servizio. Oggi dopo quattro mesi di tensioni e discussioni a tutto campo ci sarà il nome del successore di Mario Draghi alla Banca d'Italia. La lettera del Premier dovrebbe essere inviata al Consiglio di Via Nazionale per il parere. Nome sì, ma top secret. Ci sono certi favoriti dall'inizio della lunga corsa, Fabrizio Saccomanni, sostenuto dallo stesso Mario Draghi e Vittorio Grilli, sostenuto da Giulio Tremonti e Umberto Bossi, ma anche altre candidature dell'ultimo minuto, Lorenzo Binismaghi, Ignazio Visco e infine Anna Maria Tarantola, attuale vice direttore generale di Palazzo Cocca. Il presidente del Consiglio punta su Binismaghi e secondo le indiscrezioni delle ultime ore, proprio Binismaghi che aveva promesso di dimettersi dal board della BCE prima dell'arrivo di Draghi è il favorito. Ma non si placano le tensioni. Seguendo il ritroscena degli ultimi giorni si cerca di capire quale sarà il nome dal cilindro, ma con l'inizio dell'iter procedurale regna la confusione. Prima i veti di Via 20 Settembre, poi i continui dubbi di Palazzo Chigi e infine si registrano anche i malumori del Quirinale. Non è una novità, il colle punta alla salvaguardia della continuità e della serenità di Banca Italia e viene messo in evidenza che la scelta non dovrà mettere in discussione in nessun modo l'autonomia di Via Nazionale. Ecco qua, allora l'autonomia di Via Nazionale, D'Antoni, allora come si conserva l'autonomia di Banca Italia? Siamo un po' cresciuti ormai da diversi decenni a questa tradizione dell'indipendenza delle banche centrali. Ora la cosa aveva un significato particolare quando la Banca d'Italia aveva la sovranità sulla politica monetaria, ora l'ha ceduta alla Banca Centrale Europea, anche se ricordo che, come anche accennavo prima, il ruolo di governatore è importante anche per la gestione della politica monetaria europea, perché siede nel consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, quindi è un punto da tenere presente. Diciamo che l'autonomia o l'indipendenza e l'autonomia è sempre stato un fattore abbastanza importante, la Banca d'Italia è un'istituzione che ha un grande prestigio, anche per i suoi pronunciamenti, per il centro studi e tutte le attività di ricerca che svolge in modo molto autorevole, diciamo che è senz'altro di gran lunga il principale centro di ricerca non accademico in campo economico. Forse, ecco, questo lo vedrei come anche una ragione per conservarla, cioè in un paese come il nostro avere un qualche, non vorrei chiamarlo contraltare, ma comunque un centro che possa pronunciarsi in modo indipendente sulla politica economica, credo che sia una cosa utile a tutti. Questa forse è l'obiezione che è stata fatta rispetto per esempio alla nomina di Grilli inizialmente, che viene presentato come persona molto vicina al Ministro dell'Economia e quindi la preoccupazione è che il Ministro dell'Economia, che già ha un suo peso molto grande, ha concentrato molte prerogative nella politica economica, potrebbe in questo modo estendersi oltre quello che noi possiamo ritenere auspicabile. Quindi da questo punto di vista direi che trovo buone ragioni nella scelta di dire che una candidatura che fosse espressione della banca stessa forse sarebbe stata, forse sarà, non lo sappiamo, comunque potrebbe essere la scelta migliore. Allora io posso dirvi che tutto questo che stiamo raccontando in questo periodo si arricchisce di altre notizie e di altri misteri. Qui c'è un'anza che è stata battuta proprio qualche istante fa e che riguarda una dichiarazione del leader della Lega Umberto Bossi, il nome lo dirà Berlusconi questa sera, così ha detto Umberto Bossi al termine del vertice a Palazzo Chigi sulla designazione del nuovo governatore di Banca Italia da parte del governo, quindi un nome che doveva arrivare nel corso della mattinata, evidentemente appunto i problemi di cui stiamo parlando in questi minuti preoccupano e non poco questa maggioranza. Barretta, diceva il senatore Malanna all'inizio di questo approfondimento che uno dei lavori che bisognerà fare guardando al prossimo futuro di Banca Italia è un lavoro di dimagrimento, di snellimento, secondo lei questo è importante? Sì, diciamo che all'interno di un problema più generale che è il dimagrimento necessario dello Stato e della pubblica amministrazione, credo che questo sia un tema del tutto pertinente. Diciamo che la politica alle occasioni le ha perse, no? Sì, abbastanza, del tutto pertinente per fare un'operazione di riforma complessiva dello Stato. Credo che bisogna introdurre un altro elemento perché prima abbiamo parlato dei criteri obiettivi, adesso io però vorrei dire, siccome prima abbiamo detto uomo di Stato, uomo di apparato, però c'è anche un po' di contenuti, cioè prendiamo a riferimento l'uscente perché di solito si fa così, cioè quello che succede a Draghi dovrà essere sulla stessa linea di continuità di Draghi o una linea di carattere differente? E non mi limito esclusivamente a ragionare sulle decisioni tecniche perché Draghi ha prospettato una linea anche politica, se vogliamo, pur nel rispetto dei ruoli, molto secco, molto duro sulle cose da fare, ma ha sempre chiesto riforme strutturali, riforme non congiunturali e però ha anche introdotto una temperanza a una visione esclusivamente liberista. Io credo che questo sia un altro elemento che è totalmente sconosciuto nelle decisioni che prenderà Berlusconi, però io non sono in grado adesso di identificare sui singoli candidati questa pagella, però francamente non basta essere al governo per essere uomini di Stato. E' una domanda quindi per il professor Galloni, mi sembra di dire, allora il professor Galloni ecco qua, una volta che la fa lei la domanda a Barretta, una volta dopo ricambi a Barretta con un'altra domanda, continuità o no? Io il tema è questo, continuità o no continuità? Allora io arriverei alla risposta facendo un velocissimo ragionamento. Vedo tanti numeri su quel foglio. Sono più di 30 anni che sono stati caratterizzati nell'ambito della politica economica e monetaria dal principio fondamentale che meno mezzi monetari si mettevano in giro e meglio era. Adesso semplifico perché, contrariamente a quello che invece era la dottrina keynesiana che diceva che se i mezzi monetari servivano per creare occupazione, fare infrastrutture eccetera eccetera, non c'erano rischi inflazionistici e quindi se si doveva combattere una deflazione e creare occupazione era bene non avere scrupoli nello stampare moneta o emettere i titoli di Stato a basso. Quella cosa è stata superata, sono 30 anni eccetera. Adesso scopriamo nel giro di sei settimane che invece la Fed sta emettendo mezzi monetari autorizzando o emettendo mezzi monetari per decine di trilioni di dollari, cioè per vari pill americani. Il problema della separazione tra qualcosa non è più quella tra politica e gestione della moneta, tra politica, tucur e gestione della moneta, che è stato il problema di 30 anni fa quando si fece il divorzio tra tesoro e banca italiana, ma è quello fra chi fa attività di credito e chi fa attività speculativa e quindi è tutto un altro scenario. Ci vuole il messaggio di rottura e noi siamo passati nel giro di poche settimane per tre incubi teorici potenziali, perché poi nessuno dei tre si è realizzato in pieno, per fortuna. Il primo che saltasse l'euro e che quindi si ritornasse, si ridesse importanza agli Stati nazionali e quindi questa era una situazione che avrebbe dovuto far pensare una discontinuità a favore di un qualche cosa che aveva a che vedere con lo Stato. Poi scenario fortemente deflattivo, scenario fortemente deflattivo perché la situazione greca, le misure che dovevano migliorare i conti pubblici ma a scapito anche dello sviluppo è stata paradossalmente troncata dalle agenzie di rating, le quali hanno detto smaccatamente al governo italiano che non ce ne può importare di meno che riduciate il debito o il deficit, ci interessa di vedere che abbiate delle prospettive di sviluppo. Cioè paradossalmente i cattivi hanno fatto una lezione per il bene. Lo scenario che si sta delineando adesso invece è uno scenario iperinflattivo perché se la Fed ottiene il consenso della BCE e ufficialmente non lo sapremo mai perché non ci sono controllori della BCE come ci sono controllori della Fed, noi ci troveremo a dover vedere l'approntamento di mezzi finanziari verso le banche senza, ripeto, contropartita, per un 10-15% del volume dei titoli tossici. Cioè per 150 mila miliardi di dollari. Questo è quello che andremo a vedere. Io credo che in quelle condizioni, entro pochi mesi, se non succede qualcos'altro di imprevedibile come sono stati quasi imprevedibili questi passaggi, noi imbocchiamo una situazione in cui tutto ciò che c'è di qua e di là dell'Atlantico riviverà l'esperienza di Weimar con quello che poi sappiamo ne è conseguito. Perfetto, benissimo. Allora abbiamo ricordato in apertura di quello che ieri è stato il passaggio di consegne tra Trichet e Mario Draghi a Francoforte, un ex banchiere della Banca d'Italia, piuttosto emozionato, lo vedrete nel filmato, c'è stata una bella stretta di mano, un abbraccio tra i due. Comunque vediamo insieme il filmato e poi torniamo qui in diretta. Asi che non mi fai scoperto da cose impossibili, non mi piace le regole, e soprattutto perché vedo che l'Europa non può e non farà senza voi. Iniziamo con Jean-Claude a la Tresor francese, poi abbiamo Gian-Claude a Banca d'France e poi in l'ECB, e sono sicuro che abbiamo Gian-Claude a Europa. Grazie. Grazie. Allora, questo è quello che è accaduto non più tardi ieri pomeriggio a Francoforte. Antonio, vogliamo dire che è bellissimo vedere un italiano in un posto così importante come la presidenza della Banca Centrale Europea? Sì, anche se non è in una posizione invidiabile in questo momento. No, vabbè, però insomma, credo che faccia onore al nostro paese, avere un Mario Draghi che guida la Banca Centrale. Che impressione ha? No, no, dicevo che non è invidiabile perché proprio il fatto forse di essere italiano rischia di costituire una difficoltà o un problema rispetto a quello che potrebbe dover affrontare nei prossimi tempi. sappiamo che l'intera zona euro è soggetta appunto a questo rischio di deflagrazione. Aspetta, mi dici una cosa, guardando a quella che è stata sabato scorso la manifestazione di Roma, che purtroppo poi insomma è sfociata negli scontri che abbiamo visto, ma in strada c'erano decine di migliaia di persone che chiedevano al governo attuale, ma soprattutto al governo che verrà un cambio di strategia poi di fatto, no? Allora, quei giovani, secondo lei, visto che hanno manifestato anche davanti a Palazzo Coc, che cosa chiedono a Banca d'Italia per il futuro? No, Banca d'Italia non so che cosa si possa chiedere, nel senso che non ha in mano né le leve della politica fiscale né le leve della politica monetaria. Probabilmente era più l'aspetto simbolico rispetto alla finanza, alle banche centrali, quello che interessava più che Banca d'Italia in sé. Credo sia un disagio che forse non ha ancora trovato il modo di indicare, ma forse non è nemmeno il compito di una manifestazione di indicare delle strade, delle ricette, ma io credo che sia un disagio di cui bisogna tener conto. E con lei che ne pensa del disagio degli indignati? Ma, ripeto, sto dicendo, credo ci siano delle giustificazioni e che bisogna farsi carico di individuare delle politiche, delle linee d'azione che modifichino un po' rispetto sia rispetto alla situazione attuale, rispetto a quello che si è fatto, perché la sensazione è che le ricette che sono state messe in campo finora sono da un lato insufficienti e dall'altro forse nemmeno vanno nella direzione corretta per risolvere il problema dell'Europa, non solo dell'Europa in questo momento. C'è stata da parte di diversi economisti, commentatori, anche nelle recenti settimane, una linea di critica verso questa linea dell'austerità, che è la linea che ha prevalso nelle politiche europee, che finora è stata necessariamente condivisa anche dalla Banca Centrale, ma istituzionalmente condivisa, anche se poi la Banca Centrale, la Banca Centrale europea bisogna dire che è andata anche al di fuori di quelli che erano i limiti che gli erano stati posti, con un certo coraggio. Però diciamo, quella linea di politica economica improntata a una politica di restrizione fiscale e di austerità, ormai sono molti, direi sono la maggioranza degli economisti a vedere come una linea che non può risolvere il problema. Bisogna trovare il modo di imprimere all'economia un segno di politica espansiva, che è quello che in vario modo stanno cercando di fare gli Stati Uniti, il Regno Unito, invece quello che non si riesce a fare in Europa perché manca in questo momento una regia a livello europeo che non sia semplicemente i paesi che hanno problemi risanino i propri conti pubblici. Ma quella ricetta applicata a tutti i paesi non ci porta molto lontano. Quindi direi che, ecco, forse questo è il mio modo di tradurre l'indignazione. No, no, è molto chiaro, è molto chiaro, perfetto. Barretta, senta, mi dice una cosa, visto che il prossimo 5 di novembre il Partito Democratico sarà in Piazza San Giovanni, che poi è stata purtroppo sabato scorso la piazza di quegli scontri che abbiamo visto e commentato anche con ospiti qui in studio. Allora, intanto le chiedo se è una richiesta, sono delle richieste, quelli degli indignatos, che la politica può permettersi di ignorare oppure no? E che cosa il Partito Democratico intende rispondere a determinate sollecitazioni? In generale la politica non può permettersi di ignorare nulla di quello che emerge nella società, deve poi distinguere e selezionare. Diciamo che sarebbe un gravissimo errore ignorare il disagio profondo, perché il disagio profondo che emerge per la parte sana del movimento, ovviamente la distinzione è netta e inequivocabile, è un bisogno non tanto di garanzie, ma di un modello di sviluppo che tenga in equilibrio vari pezzi della società e questo è il vero punto debole. Voglio dire, perché Draghi ha detto che raccoglieva alcuni... L'ha detto in diretta sabato scorso, eh? Perché? Perché lui da due anni, da tre anni, sta lavorando a capo di un gruppo internazionale che si occupa di rifare le regole, perché le regole dell'attuale capitalismo, dell'attuale struttura della distribuzione, dell'accumulazione non funzionano più, perché è cambiata con la globalizzazione, eccetera, eccetera. Se siamo di fronte al fatto che con risultati positivi o meno, i grandi istituti mondiali si occupano delle nuove regole, beh, è a maggior ragione, mi pare legittimo, che quando questo disagio emerge da strati importanti della popolazione, soprattutto giovanili, che pagano prevalentemente il prezzo. La seconda ragione per la quale il Partito Democratico, io penso, dovrebbe avere attenzione, sempre quando tu ti distingo, è perché noi non possiamo ignorare che le uniche vere novità che sono venute nella politica italiana degli ultimi sei mesi, sono venute fuori dalla politica di schieramento. Movimento delle donne, il referendum e i giovani in movimento. Il referendum lo sono perché il risultato delle urne è tale che non puoi nemmeno, poi te lo intesti anche, ma quando il 90% dei cittadini dice no al conflitto di interessi non è che sono tutti contro Berlusconi, no, vuol dire che c'è una domanda che va oltre gli schieramenti. Quindi vuol dire che è in atto nella società italiana una dinamica profonda nelle tensioni sociali che noi dobbiamo cogliere per dare una risposta politica perché saremmo chiamati a darla, perché comunque questa situazione che stiamo vivendo in questi giorni, in queste settimane è destinata a avere un nuovo sbocco. Qual è il risultato dello sbocco del punto di vista degli equilibri? È un'altra cosa. Ma questa fase politica è finita e la domanda è abbiamo bisogno di una fase nuova. Il Partito Democratico ha il dovere, e penso anche il diritto, di giocare questa partita ma la deve fare cogliendo questi disagi e dando al disagio un corpo, dando al disagio una politica, una strategia direi, quando, cito uno del centrodestra per comodità, quando davanti all'ultima manovra il senatore, l'onorevole Martino si alza e dice il Paese non ha bisogno di manovre, ha bisogno di riforme, può darsi che abbiamo bisogno anche di manovre ma certamente abbiamo bisogno di riforme, allora dobbiamo interpretare e dare un contenuto politico e quindi da questo punto di vista io penso che facciamo bene quando andiamo in piazza ad avere parole chiare, il più semplici possibili, ma che diano al Paese l'idea che siamo portatori se ci riusciamo di queste istanze di cambiamento. Non le chiedo nulla della scelta di Alemanno di vietare Cortei per il prossimo mese, vabbè poi ne parleremo magari in un'altra occasione. Professor Galloni mi dà anche una sua opinione degli indignati? Allora, prima vorrei sottolineare il fatto che lo stesso Mario Draghi la sera stessa, nonostante appunto gli scontri eccetera eccetera, invece di prendere le distanze ha affermato hanno ragione. Secondo, questo ci fa pensare che lui sa qual è la gravità della situazione finanziaria internazionale di cui abbiamo parlato prima. Secondo, non mi pare un movimento come poteva essere nella nostra esperienza di 40 anni fa gli extraparlamentari che andavano da quelli più moderati a quelli più estremisti che facevano, diciamo così, fra virgolette i black bloc del caso. I black bloc con gli indignatos, se ho capito qualcosa anche di quello che ha riferito la polizia eccetera, i black bloc non c'entrano niente con gli indignatos. Cioè gli indignatos volevano fare una manifestazione sostanzialmente pacifica. Si sono inseriti due tipi di contributi, fra virgolette, quelli dei black bloc su cui ho delle grandi riserve su chi siano veramente questi personaggi, perché il giorno che poi ne prenderanno qualcuno capiremo che non c'entrano niente con nessun movimento, nemmeno di sinistra, e poi quelli che corrispondono diciamo ai continuatori di quello che facevamo noi 40 anni fa, vedi centri sociali eccetera eccetera, più o meno esagerati, meno esagerati. Ma gli indignatos è una cosa nuova. Cioè sta dicendo che è capitato di lanciare qualche sassolino? Ma gli indignatos è una cosa nuova. Sì. Gli indignatos è una cosa nuova secondo me. Come è nuovo quello che è successo con i referendum, come è nuovo a mio modo di vedere anche quello che è successo in Molise col movimento di Grillo 5 Stelle, come è nuovo nella sua intensità il disagio della Chiesa e il fatto che adesso si dovrà dare ai cosiddetti laici un ruolo che non porta a un partito, ma cosa porta? Ecco tutto ciò evidentemente si incrocia con l'analisi e le preoccupazioni della situazione economica, del futuro, delle prospettive che abbiamo. Ecco questo è, perché in questo momento sicuramente diciamo che c'è un gran purpurri, un gran melpot di idee, di proposte, di queste e di quell'altro, però a qualcosa si dovrà arrivare ecco da un certo punto di vista. Per esempio l'euro si può difendere, si può salvare, se fosse l'unico problema, adesso è diventato un problema secondario, però quando l'anno scorso era il problema principale, si arrivava a dire euro sì euro no, con una buona dose di deleitarismo, però ecco c'è stato chi ha cominciato a dire ma perché i parametri di convergenza invece che essere parametri di tipo finanziario, quindi uguali per tutti e arbitrari, non diventano invece, non vengono completamente sostituiti da parametri di tipo reale che consentono di far sì che ci sia una parte nell'Europa, una volta che agli stati, agli enti locali, eccetera, sia affidato l'obiettivo di pareggiare il bilancio, cioè tanto ti entra di tasse o di altro, tanto puoi spendere per fare funzionare le istituzioni e i servizi, ma ci sia un'altra istanza in cui si spende per lo sviluppo, si fa qualche cosa per il futuro. E quindi questo qualcosa che vedrei bene a livello europeo deve però parametrarsi non in base a quello che è la popolazione, eccetera, ma deve parametrarsi in base ai potenziali di sviluppo dei singoli paesi membri, che dipende dalla disoccupazione, dai disoccupati disponibili e soprattutto dalle tecnologie inutilizzate. Noi in Italia per fare un esempio e buttare lì... Velocemente. Sì, sì, no, no, solo una cosa. Ecco, se io devo dire da cittadino di questa città, di questa regione, una delle cose di cui sono più indignato appunto è tutta la questione dei rifiuti, no? Cioè che praticamente ci siano dei personaggi che controllano le risorse, le tecnologie, eccetera, e impediscono che invece si passi a delle tecnologie che potrebbero consentirci senza inquinare di produrre tanta energia, di stare tutti bene, invece si deve stare lì a buttare, ammassare i rifiuti, il termovalorizzatore sì, il termovalorizzatore no. Questo deve essere superato. Dobbiamo investire nel meglio che oggi abbiamo in termini di tecnologia e cercare di produrre e di lavorare di più. Perfetto, molto chiaro. Allora, siamo in chiusura. Chiudiamo con una previsione. Cerchiamo di anticipare il Presidente del Consiglio. Chi sarà? D'Antoni, il prossimo governatore di Banca Italia? Non so fare questo. Niente, perfetto. Baretta? Non è il caso. Neanche. Vediamo se Galloni è l'unico che si sbilancia. Se prevalgono le logiche degli equilibri e delle alchimie comunitarie, eccetera, se prevalgono le alchimie lì, sicuramente vini smaghi. È forza, ma è una necessità. Se non dovessero prevalere invece... Il Stato ci sarà Letta che tira Berlusconi per la giacca e dice guarda che dobbiamo fare così, non ci piace, ci piace, non ci piace, ma lo dobbiamo fare. Se passa la linea, ma questa mi sembra... Cioè, dovrebbe... Conversione di Berlusconi sulla via di Damasco e poi quello che ho detto era teorico che, appunto, Grilli rappresentando lo Stato invece che eccetera allora dovrebbe essere favorito in una logica di discontinuità. ma non è che prendo la decisione sentendo la nostra discussione di stasera se no magari... E quindi penso che queste siano le ipotesi quindi siano l'interno per dare continuità perché in fondo anche la sinistra non ha riflettuto sul rapporto fra quella nomina e la situazione ha mantenuto un profilo troppo basso a mio modo di vedere la sinistra quindi avalla la tesi ufficiale di Berlusconi che però forse sarà smentita da quella segreta che deriva dalla... Vabbè, staremo poi a vedere... Baretta vuole nominare qualcosa in stasera 20 secondi, eh? Penso che bisognerebbe conoscere qual è lo scambio perché a questo punto la discussione non è più su Banca d'Italia ma è se Francia sì, Francia no o Bossi sì, Bossi no. Io però dico che se un servitore dello Stato si fa indietro anche senza che gli si offra qualche carica di prestigio. Vabbè, perfetto, allora noi per il momento ci fermiamo qua vedremo in serata quale sarà il nome che il Presidente del Consiglio fornirà a proposito del successore Mario Draghi per il momento ringraziamo Massimo D'Antoni, Nino Galloni, l'Onorevole Baretta a tutti voi l'augurio di una buona serata a presto. Grazie mille.